Ciao amici di Youtube, bentornati sul mio canale Pechoc e Passione Nel video di oggi andiamo a parlare direttamente del nuovo servizio introdotto in casa Pechoc Il servizio si chiama Remote Control Mi raccomando, non confondetelo con un servizio già presente che si chiama E-Remote Control che è un servizio appunto per gestione da remoto per le auto elettriche plug-in ma questo servizio mi permette di fare altre operazioni che andiamo a vedere a breve Prima di andare a vedere queste operazioni vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non foste iscritti questo perché potete vedere tutti quanti i video che sono stati caricati ed essere aggiornati in tempo reale sulle nuove uscite Allora mettetevi comodi e andiamo a vederlo insieme Eccoci ragazzi, adesso andiamo un pochettino a vedere nel dettaglio in cosa consiste questo nuovo servizio che è stato introdotto in casa Pechoc Allora il servizio mi permette di fare delle funzioni aggiuntive direttamente dal smartphone quindi dal dispositivo mobile sulle nostre autovetture quali sono questi nuovi servizi che mi permette di fare sono appunto l'apertura e la chiusura dell'auto e suonare il clacson o accendere le luci esterne Queste due ultime funzioni possono risultarmi molto utili nell'ipotesi in cui mi trovo in un grande parcheggio auto parcheggiata ad esempio in un centro commerciale non riesco a trovare l'auto attivando e spesso capita perché spesso capita anche a me e con queste due funzioni riesco a trovare l'auto in maniera più semplice Adesso vi inserisco un link direttamente qui e ve lo vado a inserire anche nei commenti dove cliccandoci sopra vi rindirizzerà direttamente sul sito Pechoc Mettendo le vostre credenziali Pechoc vi dirà se la vostra auto è compatibile o meno con questo servizio Ovviamente se è compatibile posso attivarlo in maniera gratuita perché è gratuito il servizio Se non è compatibile speriamo che dai prossimi aggiornamenti del sistema introducano anche le nostre autovetture Io spero ragazzi che questo video sia di gradimento sia utile a qualcuno del gruppo, del canale Continuo da seguire direttamente il canale Pechoc e passione Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti da Alessandro